Salve a tutti, sono Silvio Pala, pasticcere da 55 anni e tecnico dimostratore da 35. Durante l'ultimo lockdown, navigando in rete, ho visto qualche giovane nuova leva che proponeva corsi online e amando il mio lavoro, particolarmente curioso, ho voluto acquistare un paio di corsi di Andrea e devo dire che sono rimasto piacevolmente colpito dalla sua preparazione, la sua professionalità, la semplicità e la chiarezza con la quale spiega le sue preparazioni. Nonostante la sua giovane età, ho trovato i suoi corsi davvero interessanti e ricchi di contenuti, sia per i professionisti come me, sia perché è alle prime armi con la materia. Non posso che ringraziare Andrea per l'idea innovativa e consigliare a tutti i corsi online di pasticceria di Giglio che offrono davvero lezioni di qualità abilmente spiegate da un maestro entusiasta e coinvolgente. Bravo Andrea! Grazie!